Ciao, italiani? No, non sono pazzo, ho un canale YouTube dove faccio scherzi La telecamera sta lì in fondo Conosci The Show relativo a Miatol? No? Comunque, questo scherzo sarebbe tipo pubblicità sulla gente Cioè citazioni di pubblicità sulla gente Ok, va bene apparenzeva altre persone nello scherzo Volete segnarvi il canale così ve lo vedete? Esce martedì Com'è che ve lo segnate? Una palermo silenzio Cosa? Una palermo silenzio Su YouTube Su YouTube Ci trovo da noi Sì, sì Divergence, go away tutto attaccato Divergence scritto come il film solamente con un S dopo Aspetta qua Ragazzi, era una candy camera comunque Stavamo riprendendo da là Vedete? Noi abbiamo un canale su YouTube dove facciamo scherzi e sperimenti sociali Ah, ok Va bene apparire nel video? Certo, sì Ciao Ragazzi, era una candy camera per YouTube Guardate, stavamo riprendendo da lì Vedete? Noi niente, noi abbiamo un canale dove facciamo candy camera e sperimenti sociali Vi va bene apparire nel video? Sì, sì Va benissimo Perfetto Davvero? Ci chiamiamo Divergence Esce martedì alle 14 Ok, va bene Tu lo segui YouTube? Sì, sì Ti seguo in Google Seguo più o meno Molta gente Era qui Gamer Ragazzi Era uno scherzo C'è la telecamera lì Questo ovviamente è un video che si chiama pubblicità sulla gente Non so se conosci YouTube o se ci giri Tipo OmiaTol Esatto Tipo OmiaTol Facciamo scherzi del genere noi Siamo un po' meno popolari Ma comunque andiamo abbastanza bene a Roma E... Va bene apparire nello scherzo insieme altre persone? Perfetto Comunque questo video uscirà le due martedì Divergence Ok Divergenti al plurale In inglese, ok? Perfetto, dai Ciao Ciao Bocca a lui per il canale Grazie Perché qua ti ha la parola? Ok, una recitazione Ma sono buoni? Li chiamerò Ok, una candy camera Fiore di latte Sì, una candy camera La stiamo riprendendo da là Che pale roba Niente, vi proviamo il prossimo Eh sì Buona giornata Ciao, grazie Signora Signora scusi se l'ho disturbata Ma era una candy camera Guardi C'è una telecamera lì La stiamo riprendendo È uno scherzo Per YouTube Per YouTube Abbiamo un canale di scherzi Per i miei sociali Va bene Va bene essere nel video Comunque Ok? Ok Ok Ok, buona giornata Mulino bianco No, non sono pazzo No, tranquillo C'è una telecamera lì Avevo un canale su YouTube Dove facciamo scherzi E questo era pubblicità sulla gente Capito? E l'abbiamo fatto a migliaia di altre persone Questo scherzo però è venuto sempre male E questo è una volta che è venuto bene Va bene apparire lo scherzo insieme a altre persone No, no A dire il vero Che è capace Grazie a tutti